benvenute allora oggi sfogliamo insieme l'album 5 del libro che valido fino al 2 maggio del 2018 vedrete subito che ci sono tantissime promozioni sconti fino al 40 su una vastissima sezione di prodotti il set per la festa della mamma le offerte limitate e poi anche del set promozioni per la cura del corpo della doccia e anche quelli per le unghie quindi direi di iniziare a sfogliare subito il catalogo eccoci allora iniziamo abbiamo detto che sconti fino al 40 per cento e possiamo iniziare a vederli subito eccoli qua su tutti i trattamenti viso ci sono alcuni prodotti scontati fino al 40 per cento ed è una grande promozione mi scuso intanto per il cane dei vicini che sta bagliando come un matto senza alcun motivo apparente eccoci qui tutte le linee fino al 40 anche per i trattamenti corpo eccoli qui iniziamo con le promozioni perché due smalti a solo 5 euro quindi potete scegliere tranquillamente tra tutti i colori quelli che volete due di tutti i colori guardate qua quanti sono eccoli il primo col codice nero secondo col codice rosso tranquillamente pastelli colorati iniziamo con il 7 in edizione limitata eccola qua questo è il profumo common evidence guardate che bello edizione limitata per la festa della mamma è davvero fantastico come il tec e poi ci sono anche i set quindi ad esempio questo la 34 95 che comprende il common evidence edizione limitata da 50 ml il gel doccia da 200 ml latte corpo da 200 ml e il confanetto davvero molto carino altra edizione limitata will amour eccola qua sempre con il tec molto carino eccoci se no anche questo 7 39 95 abbiamo il will amour edizione collector 50 ml gel doccia profumato da 200 latte col profumato da 200 e il confanetto quindi grandissime idee per la festa della mamma vediamo ora una promozione delle plasina tour perché crea la tua coppia perfetta 2 per 5 euro quindi possiamo tranquillamente scegliere tra tutti i prodotti che ora dimostro bagno doccia 200 ml crema mani o sapone ne scegliamo due e sono 5 euro in tutto quindi profumazioni e prodotto che vogliamo questi sono di bagno doccia tutte quante la profumazione eccole sono davvero tutte le creme mani possiamo scegliere due oppure una più un altro prodotto e i saponi saponi completamente vegetali due prodotti 5 euro direi che questo è una buona promozione per provare anche tutti i prodotti e questo era tutto l'album abbiamo visto tutto quanto tutte le offerte promozioni comunque vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è sempre il link per scaricare il catalogo in formato pdf così potete tranquillamente sfogliarlo sui vostri dispositivi multimediali e c'è sempre anche il link per contrattarvi per le informazioni e per gli ordini e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il maggio naturale mondo di vero c'è